Domani avremo l'inaugurazione di questa riqualificazione dell'area cani che abbiamo fatto con gli associati volontari nel parco Sempione vicino all'acquario. L'area cani è un'area di circa 6 mila metri quadrati che era in una situazione con buche, tratto spellato, una situazione di degrado per cui noi associati abbiamo pensato di dare un supporto al comune e di riqualificare noi direttamente l'area. Abbiamo inoltre presentato questo progetto che prevede l'adozione dell'area per tre anni. Per tre anni faremo manutenzione, cureremo il verde, cureremo le panchine che tra l'altro abbiamo risistemato, abbiamo cambiato gli stelli, rotti, mangiati, li abbiamo grattati, riverniciati tutti insieme con gli associati. Domani a che ora? Domani sarà le 11.30 appunto nell'area cani dietro all'acquario nel parco Sempione. Quindi sono tutti invitati? Tutti invitati, ci sarà anche l'assessore Maranna che farà l'inaugurazione insieme a noi e inoltre è previsto dopo l'inaugurazione con gli istruttori di Team Dog un'esibizione con cani e verranno date delle indicazioni su come utilizzare al meglio le aree cani sia per i cani ma anche per i padroni.